Oltre 120 milioni di disavanzo nel sistema sanitario regionale. Non bastano i 68 milioni stanziati in consiglio regionale. Bisogna che ogni ASL comincia ad usare più che il bisturi la mannaia sulle spese. È il caso dei lavoratori impegnati nel servizio di facchinaggio nei presidi ospedalieri della provincia di Chieti. Qui l'appalto affidato alla Dossman Service in subappalto alla cooperativa Auriga scade nel 2025, ma già nei giorni scorsi dalla direzione generale dell'ASL di Lanciano Vastochieti è partita la comunicazione di un taglio di almeno il 50% degli orari di lavoro per i circa 70 dipendenti che già svolgono un'attività quasi totalmente part-time. Più volte sollecitata dai sindacati, l'azienda non risponde. Da qui l'annuncio dello stato di agitazione ma anche la richiesta di un incontro urgente con il prefetto perché a rischio, più che altro, sono servizi essenziali per la salute dei cittadini. Stiamo parlando di lavoratori che gestiscono in appalto pezzi di servizio sanitario quindi che fanno attività essenziali per il funzionamento dell'ospedale e delle prestazioni sanitarie quindi sono sui magazzini farmaceutici interni, quindi preparano i farmaci che vanno ai reparti hanno funzioni importantissime di raccordo tra i vari reparti, la sala operatoria, la dialisi cioè loro portano le provette, i risultati degli esami, quindi fanno un ruolo essenziale di ausiliariato all'interno della ASLE. Ed il resto appare inevitabile se si vuole ridurre il più possibile un disavanzo strutturale al di là dei ristori d'urgenza e allo stesso tempo, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore regionale al Sanità Nicolò Itaveri, non si vogliono introdurre nuove tasse per i cittadini. In qualche modo dunque è necessario rientrare e così le varie ASLE sono costrette a operare tagli significativi. Qui il dramma non è solo occupazionale e sociale, il dramma è anche per il sistema sanitario perché è chiaro che questo è probabilmente il primo effetto lampante di quello che sta succedendo a livello regionale sul sistema sanitario. Anche per questo avete chiesto un incontro con il prefetto? Assolutamente sì, perché per noi il dramma occupazionale è immediato e quindi noi, essendo un servizio pubblico essenziale, non possiamo scioperare domani mattina. Noi dobbiamo prima coinvolgere la prefettura e fare una discussione dove noi vogliamo che venga, oltre alle aziende coinvolte, che venga anche la direzione di questa ASLE vogliamo che venga anche qualcuno dell'assessorato alla sanità perché probabilmente la decisione parte da lì e noi vogliamo che si trovi un'altra soluzione. La regione e l'ASLE hanno bisogno di recuperare le risorse, cerchino gli sprechi, non taglino i lavoratori.